oggi 27 agosto siamo al posto fergo dopo una funivia e una seggiovia siamo ritornati ma questa volta non in e-bike ma a piedi trekking fino alle torri di pisa partenza e 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 qui sale è dai che sale è e salita verso la forcella laggi un alto sempre il rifugio e andiamo arrivati al rifugio pisa torri e e e e e e e era ora il rifugio una piccola panoramica ed ecco le torri di pisa prese da un'altra angolazione fantastiche e 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